Noi abbiamo lavorato per un intero mese e non capiamo perché non ci abbiano pagato una mensilità e inoltre rischiamo di restare senza stipendio per altri due mesi. E' questo il grido d'allarme che potrebbe per molti diventare di disperazione dei vigilanti se impiegati all'interno dell'ospedale Perlino. Un cambio d'appalto dell'istituto di vigilanza dalla Cosmo Polvio Avellino alla Puma Security di Roma e loro gli unici a subire negativamente e passivamente il passaggio. Interpellati da Anten, Sud e Vigilantes preferiscono non apparire dinanzi alle telecamere perché certi che la loro preoccupazione, il loro timore possa essere ascoltato e risolto con le nostre parole da chi di dovere. Vogliamo che si renda nota la nostra difficoltà e l'incredulità dinanzi a quanto sta accadendo. Ci riferiscono al telefono al momento dinanzi alle loro legittime richieste del pagamento di Cosmo Pol della mensilità di agosto. Solo silenzio. Non chiediamo la luna in Calzano ma solo ciò che ci spetta per contratto. In questo caso la stessa ASL potrebbe intervenire al pagamento nel caso in cui avesse ancora in sospeso qualche insoluto con la società. Il prossimo passo? Rivolgersi ad un avvocato e per scelta non a sigle sindacali per vedere rispettati i propri diritti.